Oggi facciamo coccere la crostata nel kit forno con san pietro. 10 minuti, fiamma alta. 10 minuti sono passate, abbasso la fiamma e faccio coccere di nuovo per 10 minuti. 10 minuti sono passate, lascio ancora. 5 minuti, fiamma alta, otto cottura. 5 minuti sono passate, otto cottura, ecco la crostata.